e bello a tutti ragazzi sono gamer joe e bentornati sono video di pokemon go andiamo subito sotto le novità e possiamo vedere che il team go rocket ha trasformato oddish larvitar e tanti altri pokemon in pokemon ombra ma vediamo meglio quali sono questi pokemon che hanno bisogno del nostro aiuto stiamo parlando di oddish gloom venonat venomot psyduck growlite abra hitmonchan larvitar e tartuig chiaramente con le loro rispettive evoluzioni quindi ad esempio se ci soffermiamo su tartuig ragazzi tra poco ci sarà il suo community day e se riusciamo a salvarne uno dalle grinfie del team go rocket una volta purificato questo tartuig possiamo poi andarlo a fare evolvere al suo community day questo qua di settembre e una volta appunto fatta la sua purificazione e evoluto dentro all'interno del community day potrà ottenere la mossa esclusiva ma attenzione come ho detto solamente purificandolo se lo lasciate in forma ombra non otterrà la mossa esclusiva e qua ragazzi chiaramente ci tengo tantissimo a trovare un bellissimo larvitar in forma ombra shadow per fare un bel tiranitar ombra potentissimo ma senza tralasciare pokemon come growlite abra che le loro evoluzioni sono chiaramente molto valide parlando invece delle mie catture volevo mostrarvi cosa ho trovato allenatori sotto i miei pokemon eccoli qua bam guardate qui in primis vi mostro questo bellissimo centret shiny sono riuscito a trovarlo ragazzi guardate che bello pokemon possiamo dire abbastanza inutile però veramente pazzesco è in forma shiny con questa colorazione molto chiara rimane il suo marroncino diciamo però appunto è molto chiaro molto bello in più vedete sotto 91 per cento di vi non potevo diciamo chiedere di meglio eccolo qua il mio centret con graffio e fossa la valutazione ecco qua che ve la mostro vedete lì l'ho calcolata infatti è un bellissimo 91 per cento come vi ho detto attacco 14 difesa 14 mentre ps erano a vedere così un 13 mi pare mi sembra un 13 ragazzi perché lo scalino dopo il 14 gli manca solamente uno un'attacca per arrivare a 15 e fare il perfetto nella statistica quindi un 14 14 13 il nostro bellissimo centret shiny dopo avete visto che ho trovato anche questo snubbull eccolo qua snubbull shiny che come sappiamo anche lui si presenta con questa bellissima colorazione viola rosa molto bello ragazzi il nostro snubbull vi mostro la sua valutazione un 15 di ps 0015 abbastanza raro possiamo dire ragazzi 00 15 0 stelle 15 di punti salute non ci lamentiamo in più è shiny ottimo anche lui come possiamo vedere con morso e magi brillio il nostro snubullino dopo altro mi sembra che vi avevo già mostrato qua sotto spinda il numero 3 96 per cento io li ho classificati così ho messo prima la percentuale iv e dopo messo il numero perché ne abbiamo veramente tanti di spinda quindi almeno riesco a riconoscerli dopo fatto e vari raid di leggendari di cani leggendari mi aspettavo di trovare magari qualche shiny soprattutto di suicune che ne ho trovato come come avete visto al suicune day solamente uno in forma shiny vabbè meglio di niente chiaramente almeno sono riuscito a registrarlo ho trovato questo 80 per cento poi ho fatto tre raiku che vedete lì questo qua da 96 molto buono ma soprattutto questo raiku qua da 1968 punti lotta un bellissimo 98 per cento dv bellissimo ragazzi raiku infatti lo shiny che avevo trovato dopo vedete lì ho catturato anche diversi electric come quello che vedete lì in alto però purtroppo zero shiny vi volevo mostrare appunto raiku il migliore era questo qua da 93 2008 punti 15 15 12 nelle sue statistiche molto buono penso proprio che andrò a potenziarlo perché sta per finire l'evento quindi presumo che uno migliore non lo troverò a meno che chiaramente mi farò fare un qualche scambio farò un qualche scambio di amico fortunato e a sperare in un raiku fortunato shiny chiaramente più alto di 93 per cento vediamo ragazzi cosa offriranno magari i miei amici intanto qua uno scelter niente scelterigno shiny nulla ora magari mi avvicino qua a fare quel poche stop nei paraggi non abbiamo nulla di importante a parte qualche ride mi avvicino qua per vedere magari se esce l'arvitar in forma ombra eccoci qua ragazzi proviamo a fare questo team rocket intanto qua continuano a spawnare pokemon interessanti possibili shiny vediamo prima questi gligar niente il secondo qua dietro nulla niente dannazione un bel gligar shiny andiamo sotto il nostro team rocket borsa piena come sempre devo sempre star lì a svuotare questa cavolo di borsa vediamo chi ha come pokemon andiamo avanti tanto la polvere ce la da comunque o o o o zubat ragazzi sempre zubat questi pokemon del cavolo ce l'abbiamo già l'abbiamo già trovato zubat ombra sul sopra il 90 per cento quindi non ci interessa col nostro groudon non dovrebbe essere un problema terremoto spazzato proprio grimer speriamo piuttosto che magari ci esca lui perché ho notato che non è per forza il primo pokemon che manda in calco in campo la recluta quello che ci uscirà diciamo come ricompensa ma è possibile anche che ci dia il secondo me è già successo e più di una volta ragazzi quindi non uscite io all'inizio uscivo sempre come adesso magari ho trovato zubat uscivo sempre perché non mi non mi interessa più a trovare zubat ombra e quindi magari mi andavo a perdere un il secondo pokemon in questo caso magari grimer stiamo a vedere cosa ci uscirà e infatti ragazzi eccolo qua grimer grimer forma ombra proviamo a prenderlo con bacca ananas quante ne abbiamo no interrotto anche la serie di spinda dannazione poi salta andiamo a fare fuori tutte le ball aspettate ragazzi che mi devo impegnare attenzione olè ottimo ci siamo riusciti ho interrotto la serie di spinda ok preso grimer bene vediamo subito a quanto sta in percentuale iv 56 punti lotta è scarsino scarsino bene almeno siamo riusciti a prenderlo qua abbiamo un pokestop nuovo uscito da poco ora lo registriamo immediatamente poi li abbiamo altri pokestop del team rocket andiamo a caccia di questo larvitar ciao ciao ragazzi ne abbiamo qua un altro vediamo stavolta che pokemon dovremo salvare speriamo uno un po più decente di zubat magari uno nuovo che non abbiamo ancora lotta ok recluta a noi drowsy dannazione ce l'ho anche lui vabbè ragazzi ormai affrontiamolo e lo andrò a catturare però non è detto che sia drowsy stiamo a vedere il secondo pokemon qual è concentriamoci su di lui al momento ok tirato giù vediamo il secondo ipno anche lui ce l'ho ok niente di che ora li tiro giù li catturo lo catturo e ci vediamo dopo ragazzi siamo davanti a un'altra recluta speriamo ci porti un attimo più di fortuna stiamo a vedere chi ci butta fuori come pokemon quale dobbiamo salvare questa volta andiamo inizia la sfida intanto vi dico già growlite oh bello ragazzi speriamo sia lui questo bellissimo growlite intanto quello di prima era ipno mi ha dato ipno che sono riuscito a catturarlo se mai dopo ve lo ve lo mostro intanto qua abbiamo growlite come primo e secondo pokemon vediamo ho un doom bello ragazzi anche lui è molto molto bello speriamo chiaramente in growlite uno di quelli nuovi però almeno non si tratta del solito zubat bene bene ragazzi ora non ci resta solo che tirarlo giù sconfiggere questa recluta intanto mi ha battuto giù il tiranitar andiamo con growlite un ultimo pokemon che ha arcane guardate che bello ragazzi arcane ombra veramente bellissimo è molto bello speriamo di trovare growlite alto dv così andiamo a purificarlo e magari sarebbe bello un bel 100 per cento stiamo a vedere ragazzi sconfitta la recluta olè uff si ti abbiamo messo al tappeto la nostra recluta ecco qua 500 di polvere siamo a 72 ragazzi 72 su 100 della medaglia team rocket solamente 5 premier ball ma dovremo farcela growlite yes ragazzi 83 pl ammazza un po più basso no eh cioè dammelo un pl un pl che ottimo abbiamo fatto anche la missione di spinda ragazzi quindi in questo video andremo aprire anche la missione di spinda speriamo bene un bello shiny anche lì non sarebbe male intanto eccolo qua growlite ho paura a valutarlo perché so già con questi pl poi sì ragazzi possiamo comunque purificarlo per vedere dove arriva in difesa e punti salute arriverà a 15 mentre di attacco veramente scarso arriverà neanche a 10 perché una volta purificato il pokemon sale di due statistiche e quindi nada ci è andata male ma almeno siamo riusciti a registrare uno di questi nuovi pokemon ombra molto bello eccolo qua coi suoi occhietti rossi growlite bellissimo veramente bello ok ragazzi perfetto intanto ha smesso anche di piovere di colpo infatti non capisco ogni volta sta meteo va per i fatti suoi perché è bel tempo ci sono un po di nuvole sì e quindi possiamo andare aprirci la nostra bella missione di spinda così ottengo anche il timbro intanto vedete che purtroppo ho saltato il giorno 6 settembre per il timbro vabbè non sono riuscito a giocare apriamo normale normale dannazione spinda dai fatemi sapere voi allenatori chi è riuscito a trovare spinda shiny sono veramente curioso perché qua nella mia zona so solamente due persone che lo hanno trovato shiny io ormai non trovo tante missioni perché vi ricordo che la missione di spinda è fai 5 tiri ottimi di fila per ottenerlo e quindi è difficile veramente trovarla questa missione e anche oggi allenatori volevo andare aggiungere qualcuno di voi quindi come prima cosa vi mostro il mio codice eccolo qua inviate la vostra richiesta perché ogni totte giorni il game diciamo vi rimuove automaticamente intanto ho fatto un attimino di pulizia vedete lì 4 spazi liberi ho eliminato chi non è attivo intanto allora vediamo possiamo accettare 1 2 3 e 4 ok questi 4 accettati 200 amici quindi la casella è piena poi andrò a vedere nella lista qui delle amicizie chi non è attivo inviatemi pacchi ragazzi siate attivi perché chissà magari un giorno ci vediamo e possiamo fare un bellissimo scambio fortunato sempre che arriviamo a quattro cuori allenatori ho una bella notizia guardate chi ho trovato gligar shiny bam ragazzi eccolo qua 728 punti lotta bellissimo bacca dorata assolutamente non lasciamocelo scappare lì sulla destra non riesco mai a lanciare a fare l'effetto da questa parte centrato stiamo a vedere attenzione gligar 3 si ragazzi si anche gligar aggiunto registrato eccolo bellissimo bellissimo 728 punti lotta il nostro gligarino guardate che bellezza bellezza mica tanto in statistiche però è sempre uno shiny in più che abbiamo aggiunto alla nostra collezione di shiny di pokemon cromatici eccolo qua andiamo a dargli la stellina e bam gligar shiny preso ragazzi meglio di così top questa prima week questa prima settimana veramente l'evento super l'abbiamo iniziato al meglio abbiamo trovato centret andiamo a vedere ragazzi facciamo un attimo il resoconto quindi centret snooble che ormai ne spawnavano tanti quindi lo shiny è uscito però intanto centret 91% molto buono poi abbiamo trovato appunto il nostro gligar quindi tutti gli shiny che hanno rilasciato questa settimana siamo riusciti a trovarli molto buono ragazzi molto buono sono veramente contento e invece ragazzi a quanto riguarda uova e quindi unknown guardate come sono messo allora se riesco ad andare sotto uova ho trovato solamente un uovo da 10 chilometri tutti gli altri da 5 quindi non mi andava chiaramente di scioppare incubatrici intanto vediamo pacco avventura abbiamo 15 super incubatrici l'ultra invece 14 bigliatti ride e 10 super incubatrici magari da prendere il pacco avventura così abbiamo le super incubatrici 15 addirittura e 2 incubatrici normali ma diciamo che non sono stato neanche lì tantissimo a schiudere uova perché appunto le lettere di unknown no stavo scrivendo ultra che è praticamente la sigla che troviamo di unknown allora guardate qua tutte le lettere le ho almeno di quelle di questa settimana che vanno a rappresentare la parola ultra molti le ho catturati a Dortmund vedete sono sotto data di ritrovamento quindi se andiamo in fondo questi qua sono i primi vedete qua tutti i miei unknown sono tutti diversi ad esempio vedete questa qua è la T qua abbiamo la L ragazzi vedete ecco questa qua è la U ragazzi vedete qua bellina anche lui la A non so se ve l'ho mostrata eccola qua in tal caso li ho tutti quelli che vanno a formare la parola ultra piuttosto preferisco shoppare le incubatrici per aspettare i regionali shiny e trovare chissà magari ragazzi un bel Tauros shiny Mr. Mime, shiny, Kangaskhan, Farfetch sono bellissimi i regionali e poi almeno potrò catturare schiudere perché arrivano dalle uova Tauros vabbè ormai li abbiamo già tutti perché in precedenza li hanno già buttati nelle uova e quindi potevano già trovare i diversi regionali del mondo nelle uova da 7 km e quindi speriamo di trovare lì qualche bellissimi bellissimo shiny regionale allenatori prepariamoci per la seconda week di settembre prima dell'ultima BAM quella di Mewtwo la terza week scrivetemi nei commenti come vi è andata questa prima settimana di settembre spero molto che avete trovato qualche nuovo shiny e per oggi allenatori da Gamer Joe è veramente tutto se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video ciao allenatori Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video